Ed ecco che siamo pronti, il preso comprato del 2023, abbiamo l'ospite d'onore a Simone, entra, inseriamo e facciamo gli ingressi, un applauso forte! Fortissimo, vieni qua, vieni qua! Non vuole fare il giro, non vuole fare il giro, non vuole fare il giro. Bene, bene, oh, vedi? Bravo, facciamo un grande applauso a Simone! Si sta facendo un giro dei tavoli, bravissimo, così si fa, mi è piaciuto, bravo! E a questo punto per Simone, I PIP! Hurra! I PIP! Hurra! I PIP! Hurra! Bravo, bravo! E allora gli facciamo fare il bel Disco! So, Disco! So, Disco! So, Disco! Bravo, bravo, bravo! Vai, disinibito, prego! Sarò molto breve, grazie a tutti per essere qui e niente, benvenuti! Un altro applauso forte, ragazzi, buona cena! Ciao!